Cosa hai fatto? Che fa? Lo dobbiamo sequestrare sto cattorcio quando lo vogliamo revisionare? Fai silenzio! Tornare a casa c'è guerra a me non mi interessa della guerra che fa a casa vostra E' una cosa che mi interessa, tu devi dare il permesso al soggiorno del municipio Il senato marocchino, magari a tremo, magari a gilda, magari a tua sorella Lo sento che cosa dite? Che ti sei proprio un troglodito Vieni, 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 vieni Guarda, che sei il muso? Cosa che sei? Cosa che sei? Parla con me Così va al mondo? Ah? Ti arrivi? Che te sia onesta comitato? Mi vede licenza? Amore? Ciao Mi dica, è l'ufficio del collocamento? Questo è l'ufficio del collocamento, eh? Che deve essere, mi scusi Se era svegliato o resti? Ma vabbè, no, resti E' l'era in coma, e' l'era morto Ma no, gli ha chiamato adesso Adesso gradualmente si è svegliato Però lui ricorda, ha ricordi di vent'anni fa circa Secondo tu Dio mi condanna? No, condanna nessuno Dio, io non condanna mai caro Con 12 rate, 1200 euro al mese per 12 mesi Queste sono le condizioni della finanziaria Gli amici padani e i miei clienti Mi ho dato schei a tanta gente Tanta gente mi deve favore Ti mi ha sempre fatto ridere Però adesso ti non preoccupi E ora, cosa sai che vuoi dire da me? Ciao Maria, come vai? Sì, è venuto a lavorare stamattina Mamma, mamma, mamma che siamo qui? Trovo più Mario E se è scampando il geseno lo trovo da nessuna parte Eh, che caro, salmi Ma allora che ti si passa? Sento salta la mura Vai caro, vai, che daremo a lavorare Sì, ma c'è? Sì, ma c'è la macchina di Mario! Era un ruolo Sì, signor Mario, signor Mario.